Scusatemi, scusatemi... Scusatemi, scusatemi... Scusatemi, scusatemi... Scusatemi, sto andando dalla mia ragazza. Ma c'è la fila. Tutto a posto? Sì. Vado... Vado dalla mia ragazza, sì. Ciao ragazza. Scusatemi. Oh, ma sei in ritardo. Guarda, i cinque minuti sono passati a un quarto d'ora. Non hai capito? Non mi partiva il motorino. Eh, va bene. Oh. Hai visto che c'è lì dietro? Sì, me lo dici dopo. Poccando di faccia il video. No, ma... Ma se hai dei biglietti per la sala... Ma va bene, quanta c'è? Eh? No, va bene. Benvenuto... Al cinema. Guarda i biglietti. Pref. Vabbè, ma è uno scherzo. Il cinema non scherza mai. Dai avanti che ci rarrentate la fila. Vabbè, io allora vado a prendere i pop corn. Ecco qua. Pop corn e coca. Ma lei è? Sì. So, dieci euro. Dieci euro? Sì. Beh, che volevo fare? Ah, sì. Eh... No, no. No, no. Ma che è rotta? Sì. Sì. Hai di dirla? Salve. Salve. Grazie. E poi qua. Arrivederci, buonasera. Ciao. Ciao. Info dal corridoio a destra. Tutto a posto? Eh? Camminare, su. Buonasera. Buonasera. Non male, eh? Infatti, non male. No, dicevo il film, non male. Il film? Sì, no. Bella scelta. Bella scelta. Io lo vedo con Luca, io. Ecco qua. Oh, mi scusa. Salve, buonasera. Salve, buonasera. Salve, buonasera. Salve, buonasera. Buonasera. Siamo tornati. Popcorn? Signorina, mi raccomando al cinema, niente cellulare. No, scusi. Buonasera. Vi preghiamo di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo. Il film sta per cominciare. Mi scusi. Che mi sono perso? Hm?